Questi bambini sono corsi per vedere questo cervo volante perché ha una peculiarità. È maschio, ma è anche femmina, o viceversa. Parliamo del Kuagata, ovvero un Lucanus cervus, uno degli insetti più amati e più allevati dai bambini giapponesi. Infatti nei negozi per animali è piuttosto standard trovarne. Questo esemplare sta attirando l'attenzione di appassionati e curiosi al Museo degli Insetti di Hiroshima. È stato trovato e catturato il 13 luglio, in un bosco non lontano, ed immediatamente esposto al pubblico. Ma perché mai? Per il suo ginandrofismo bilaterale o bipartito. Il ginandrofismo consiste nella compresenza di caratteri sessuali secondari, sia maschili che femminili, ed è bilaterale in questo caso perché queste caratteristiche sono distribuite nettamente secondo il piano di simmetria bilaterale per l'appunto dell'esemplare. Nel suo caso la metà destra del corpo è maschile, con una mandibola più lunga e robusta, mentre la metà sinistra è femminile, con una mandibola più corta e delicata. I visitatori sono entusiasti. Questa bambina dice «Sono così felice di aver visto questo quagata». Nella sua semplicità ci ricorda quanto è bello conoscere la natura, è che nulla è innaturale. Pensare che tali fenomeni siano impossibili o unici in natura è un errore. Basta aprire gli occhi per vederne la sua incredibile varietà e complessità. E il caso di questo cervo volante così amato dai bambini ne è un chiaro esempio. E a chi crede che le caratteristiche sessuali in natura siano rigidamente binarie consiglio di affrettarsi. I quagata hanno una vita media di circa tre mesi. Quindi questo esemplare rimarrà in mostra per un periodo limitato. Insomma, muovetevi per andare a vedere con i vostri occhi questo piccolo demonio gender. Un membro del personale del museo spiega «È un fenomeno poco comune. Potreste non avere mai più l'opportunità di vedere qualcosa del genere se non cogliete questa occasione». Vabbè, lui fa un po' di marketing, però ha ragione. Tuttavia si sbaglia quando aggiunge che la ricerca non conosce bene questo fenomeno. In realtà, la ricerca scientifica ha indagato ampiamente sulle cause e sui meccanismi del ginandromorfismo. Secondo uno studio condotto da Satoko Narita dell'Istituto Nazionale di Scienze Agrobiologiche di Tsukuba, gli artropodi possono sviluppare caratteristiche di entrambi i sessi a causa di vari processi di sviluppo. Parliamo di individui geneticamente chimerici costituiti da tessuti maschili e femminili. Ripeto, non sono comuni, ma esistono e nascono per numerosi possibili motivi. La doppia fertilizzazione di un uovo binucleato, la perdita di un cromosoma sessuale e molti altri fattori. Insomma, un casino, ma del tutto naturale. Quindi, chi vuole parlare di teoria gender, di radiazioni di Fukushima? Siete tutti benvenuti, ci mancherebbe. Ma venite con prove alla mano.